Via Libera del Comune di Eboli al bando per l'utilizzazione di beni confiscati e destinati a finalità sociali. L'obiettivo è l'utilizzazione di spazi ed aree nella disponibilità comunale che vengono resi fruibili per tutti e che in questo caso riguardano i beni ad inolfi. Il decreto di destinazione delle aree interessate in località Cioffi è stato trasmesso al Comune di Eboli dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con l'obiettivo di inquadrare i beni stessi nel patrimonio comunale. Su quest'area, spiega il sindaco Cariello, è stata avviata una manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di un progetto avente finalità sociali. Vogliamo restituire alla collettività un bene confiscato e promuovere un'iniziativa sociale che favorisca formazione, conoscenza e crescita. L'avviso pubblico che prevede l'affidamento incomodato d'uso scadrà il prossimo 5 aprile.